L'atleta che portò la bandiera italiana alle Olimpiadi di Sydney torna in campo anche se per una volta sola. E' calto Myers, l'ex nazionale di basket, che domani pomeriggio 25 febbraio si aggregherà ai giocatori della Cimberio San Patrignano per giocare il campionato di Serie C regionale. Le sensazioni sono quelle di una grande emozione, forse più di giocare una finale scudetto adesso, poi magari domani entrando in campo mi passo. Myers si è fatto convincere volentieri a vestire la maglia della comunità di recupero per tossicodipendenti sulle colline riminesi, fondata da Vincenzo Muccioli, con la quale ha solidi rapporti di amicizia. A meno di un anno dal suo addio ufficiale alla palla canestro il giocatore torna in campo proprio da dove aveva lasciato, anche se le sue condizioni non sono delle migliori. Ho fatto un paio di allenamenti, il ginocchio mi dà un po' fastidio, però non è che debba schiacciare e fare chissà cosa, più che altro vorrei divertirmi insieme ai ragazzi. L'appuntamento è domani alle 18 al pala Sampa della comunità. A scendere in campo saranno Cimberio Sampa contro Vistrebo. Non è che mi rimette in gioco, è un'occasione anche per fare una partita con mio figlio.